una visita nella miniera oggi sono scesi giù da noi i capi ingegneri la direzione ha emanato un qualche ordine di scavare nuove gallerie e perciò sono scesi gli ingegneri per le misurazioni preliminari come sono giovani e pur così diversi e sono potuti sviluppare tutti liberamente e disinvolta si mostra sin dai primi anni la loro natura così chiaramente determinata uno di loro dai capelli scuri vivace agli occhi dappertutto un altro camminando prende appunti sopra un tacuino guarda intorno confronta annota un terzo con le mani in tasca in modo che tutto il vestito aderisca al suo corpo cammina dritto mantiene un contegno dignitoso soltanto nel continuo mordicchiarsi delle labbra tradisce la sua gioventù irrequieta prepotente un quarto da spiegazioni al terzo che questo però non ha chieste più piccolo gli trotterella al lato come un tentatore e per quasi recitargli con l'indice sempre elevato in aria una litania su tutto quel che c'è da vedere qui un quinto forse il più alto di grado non sopporta compagni ora è avanti ora indietro la compagnia adatta il passo al suo egli è pallido e debole la responsabilità ha scavato delle fosse nei suoi occhi spesso preme sopra pensiero la mano sulla fronte il sesto e settimo se ne vanno un po curvi a braccetto con le teste vicine in intimo colloquio se non si fosse qui come è sicuro nella nostra miniera di carbone al nostro posto di lavoro nella galleria più profonda verrebbe da credere che questi signori ossuti sbarbati dai nasi bitorzoluti fossero dei giovani sacerdoti uno ride quasi sempre tra sé come un gatto che fa le fusa l'altro parla invece sempre sorridendo anche lui e battendo quasi il tempo con la mano libera come devono essere sicuri questi due signori del loro posto quali meriti si devono essere anzi già acquistati nonostante la loro giovane età per la nostra miniera per potersi occupare qui senza nessuna soggezione durante una ispezione così importante sotto gli occhi del nostro superiore dei propri affari o almeno di cose che non hanno diretta attinenza con il loro compito attuale potrebbe darsi forse che nonostante le risate la disattenzione si rendano conto benissimo di quel che occorre su questi signori non ci si può davvero arrischiare a dare un giudizio preciso altra parte però non c'è dubbio che per esempio l'ottavo è molto più interessato alla questione di questi due anzi di tutti gli altri signori tocca tutto e batte un po dappertutto con un martellino che tira fuori continuamente di tasca per poi rimettercelo ogni volta si inginocchia a volte nonostante il suo vestito elegante nel fango per batter sul fondo e poi strada facendo sulle pareti o sulla volta sopra la sua testa una volta si è perfino disteso quanto era lungo al suolo e vi è rimasto a lungo immobile si pensava già ad una disgrazia ma di colpo rieccolo in piedi con uno scatto del suo agile corpo aveva dunque compiuto solo un'altra indagine crediamo di conoscere la nostra miniera e le sue pietre ma quel che questo ingegnere continuamente esamina a quel modo ci risulta incomprensibile il nono spinge davanti a sé una specie di carrozzina da bambini con dentro gli apparecchi di misurazione veramente preziosi su soffice ovatta questa carrozzina la dovrebbe spingere l'inserviente ma non ci si fida di lui ci voleva un ingegnere ed egli lo fa evidentemente volentieri sarà il più giovane forse non conosce neppure tutti gli apparecchi ma il suo sguardo è sempre fisso su di essi a volte corre perciò il rischio di battere con la carrozzina contro una parete ma un altro ingegnere cammina al lato della carrozzina e impedisce che questo avvenga egli evidentemente si intende degli apparecchi a fondo e sembra essere il loro vero custode di tanto in tanto senza fermare la carrozzina tira fuori un pezzo dell'apparecchio ci guarda attraverso allenta o serra una vite lo scuote e gli dà dei colpetti lo avvicina all'orecchio ed ascolta infine rimette con ogni precauzione nella carrozzina mentre l'altro ingegnere di solito sta fermo un arnese piccolissimo appena visibile da lontano è un po' autoritario questo ingegnere ma soltanto per amor degli apparecchi a dieci passi dalla carrozzina dobbiamo a un tacito cenno del suo dito farci da parte anche dove non c'è posto dietro a questi due signori viene l'inserviente che non ha nulla da fare gli ingegneri come è logico quando sia scienziati come loro hanno deposto da tempo naturalmente ogni superbia l'inserviente invece sembra averla raccolta tutta in sé con una mano dietro la schiena l'altra davanti che striscia sul panno finissimo della sua livrea e sui bottoni dorati fa spesso cenno col capo a destra e a sinistra come se rispondesse ad un nostro saluto o supponesse che noi l'avessimo salutato ed egli non si sentisse di abbassarsi a controllarlo naturalmente noi non lo si saluta ma ci sarebbe quasi da credere a vederlo che sia un fatto prodigioso l'essere inserviente negli uffici di direzione della miniera e si ride dietro naturalmente ma poiché neanche una cannonata riuscirebbe a farlo voltare finisce con restare nella nostra considerazione come qualcosa di incomprensibile oggi non si lavorerà più molto l'interruzione è stata troppo lunga una visita simile e si porta via tutta la voglia di lavorare è troppo allettante guardare dietro a quei signori che scompaiono tutti nell'oscurità della galleria di prova siamo del resto alla fine del nostro turno di lavoro non faremo più a tempo a vedere il ritorno degli ingegneri di lavoro non faremo più a tempo a vedere il ritorno degli ingegneri